Durante questi giorni, soprattutto queste settimane, abbiamo avuto modo nei nostri speciali di ascoltare varie opinioni, varie idee da parte di presidenti, allenatori, calciatori, colleghi giornalisti, un po' tanti personaggi che ruotano attorno al mondo dilettantistico, regionale e nazionale. Naturalmente le opinioni, come sempre, sono state contrastanti, non si gioca ormai da due mesi e oggi cerchiamo un po' di avere un quadro più omogeneo, più equilibrato. Siamo insieme al presidente del comitato regionale abruzzese, Daniele Ortolano. Presidente, ben rivisto. Grazie a nome mio della presenza, della disponibilità e soprattutto grazie da parte della proprietà di Telemax. Allora, presidente, iniziamo intanto a parlare da... ecco, possiamo dire che intanto siamo distanti, siamo oltre i due metri, va bene così? Va bene, va bene. Due metri e mezzo, tre, quindi ci possiamo togliere anche i guanti, fino a qualche minuto fa ce ne avevamo e la mascherina. Siamo stati rispettosi proprio ai vari regolamenti. Ecco, da medico, come stai vivendo? Ma dai medico, intanto da anestesista e rianimatore e terapista intensivo, ho vissuto in modo drammatico queste prime fasi, anche perché ho avuto il forte richiamo di tornare, ho espresso anche la mia disponibilità al mio ospedale di riferimento, in cui sono stato per 40 anni, che è l'ospedale di Atri, e proprio per aiutare i medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari nei primi giorni in quella difficile situazione che hanno avuto. E ancora adesso sento profondamente il senso di dolore che questa situazione ha provocato, soprattutto riguardo a tanti medici, a tanti professionisti che hanno a questo punto, professionisti della sanità, che hanno dedicato la vita a combattere questo virus e purtroppo anche a cadere sul campo. Oramai ne contiamo di medici più di 160 e di tanti operatori sanitari. E questo è un altro aspetto drammatico di questo momento che stiamo attraversando. Chi l'avrebbe mai detto, Presidente? No, sicuramente no. Anch'io nell'ambito della mia professione ho vissuto in prima persona la SARS, la prima comparsa di un virus simile a questo, che purtroppo in questo caso era sicuramente con un alto tasso di mortalità, però era facilmente individuabile perché quel tipo di infezione non era trasmissibile se non quando erano in atto già i sintomi e quindi erano facilmente individuabili i pazienti. Presidente Ortona, un aspetto direi che va subito chiarito. La Serie A, almeno dalle ultime disposizioni, dal 2018 inizia a riallenarsi, però noi lasciamo perdere quel mondo. Noi parliamo di un altro mondo, quel delettantistico, non ha nulla a che vedere con le disposizioni professionistiche. Certo, io comprendo benissimo e sono fortemente vicino al Presidente federale, al Corregionale Gabriele Gravina, che ha l'improvo compito di portare questa federazione in salvo. Lo sta facendo in tutti i modi, io penso anche con professionalità, e avendo anche contro una parte del mondo, anche sportivo. Lo sta facendo perché deve salvare non solo la federazione, ma deve salvare tutto il mondo, anche il mondo del calcio direttantistico. Ieri credo che le disposizioni adottate per questa fase 2 non siano state sicuramente favorevoli a una ripresa immediata della Serie A, nonostante i protocolli forniti anche dalla scienza medica, anche da tanti scienziati che appartengono anche all'area della tax force governativa. Quindi attendiamo ulteriori indicazioni che ci darà il Ministro dello Sport per iniziare poi dal 18 maggio questi allenamenti con tutte le difficoltà del caso, perché in questo momento l'individuazione di una data certa di inizio del campionato di Serie A non c'è. Invece, Presidente, c'è una data certa, quella della fine, potrebbe finire il 2 agosto, così diceva Gravina. Sì, quella è stata già stabilita dal Presidente Gravina in relazione a quelle che sono state le indicazioni dell'UEFA, perché anche qui bisogna essere in grado di capire che questo mondo, anche il mondo della Serie A, le federazioni sono tutte insieme in un unico contenuto che è quello dell'UEFA, tutti inseriti in una serie di manifestazioni importantissime e che è poi il calcio che ci piace, il calcio vissuto. Così come siamo interdipendenti anche dalle disposizioni della FIFA. E quindi credo che questa azione che il Presidente federale ha intrapreso oramai da più di un mese, mi sembra che sia doverosa per salvaguardare tutto lo sport del calcio italiano, compreso la Lega Nazionale di Direttanti e le sue società. A proposito di Lega Nazionale di Direttanti, così parliamo del mondo che ci riguarda più da vicino, il Presidente Sibiglia, nei suoi interventi in questo periodo, più volte ha lasciato intendere che lui ama i verdetti del capo e più volte ha detto a me non mi piacerebbero i verdetti a tavolino, speriamo che si gioca. Questa è stata sempre la sua idea. Sì, questa è stata la sua idea fin dall'inizio e ha richiesto anche nell'ultimo consiglio che noi abbiamo avuto in videoconferenza il 9 febbraio, ha richiesto l'unità di tutti quanti i soggetti, quindi di tutti i presidenti regionali, dei comitati che fanno parte alla Lega Nazionale di Direttanti, di continuare su questa linea, ma soltanto perché noi abbiamo bisogno di essere uniti a quelle che sono le indicazioni da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi abbiamo necessità di seguire i provvedimenti. Il Presidente Sibiglia veramente ha sempre continuato a dire nell'ambito della sicurezza, sia dal punto di vista della tutela della salute degli atleti, di tutti i dirigenti e quindi rispettando quelle che erano le indicazioni del Governo. Ma questo lo si è fatto perché, come dicevo prima, come la Federazione Italiana Gioco Calcio è inserita in un contesto europeo e mondiale nell'ambito di tutto il mondo del calcio, così lo è la Lega Nazionale di Direttanti che nell'ambito della Federazione rappresenta una componente, una Lega che è legata alla Lega di A, alla Lega di B, alla Lega di C e a tutte le altre componenti della Federazione. Quindi purtroppo qualche uscita fuori da questo contesto non è stata sicuramente gradita perché le risoluzioni vanno prese dal Consiglio federale. In ogni caso, Presidente, va subito a dire che qualsiasi scelta anche a livello di Lega Nazionale di Lettanti, di Comitato Ragionale, Abruzzese, Marchigiano, i vari comitati, saranno scelte nazionali? Oppure almeno questo si è un po' cercato di capire? Ma certo, certo. Io non ho parlato in questi mesi proprio per l'alto senso di responsabilità che ogni Presidente del Comitato regionale avrebbe dovuto avere in questo periodo. Non ho parlato perché non mi piacciono le vetrine, non mi piacciono sicuramente il modo di affrontare una comunicazione che comunque non è seria e alcune situazioni hanno sicuramente continuato a mettere dentro ai dirigenti di società un senso di inquietudine e di malessere che già vivono personalmente perché affrontano situazioni familiari, aziendali importanti. Questo perché? Perché, come ho detto prima, la Lega Nazionale di Lettanti è un mondo che conta 11.000 società, conta quasi un milione di tesserati e tutto questo lo fa nell'ambito del suo essere appartenere alla Federazione Italiana Gioco Calcio. e i comitati regionali non sono autonomi nelle scelte sia per quanto riguarda la chiusura delle attività né per quanto riguarda quelle che possono essere le situazioni nel momento in cui si decidesse la chiusura totale di tutta l'attività direttantistica, di essere autonomi anche nelle scelte di quelle che potrebbero essere le cosiddette graduatorie di merito o la definizione dell'ultima stagione sportiva che noi abbiamo vissuto e che abbiamo interrotto. Sono tutte cose che avverranno all'interno del Consiglio federale, all'interno delle decisioni che prenderà la Federazione, insieme alle altre leghe e insieme anche e soprattutto ai dettati che percepirà il nostro Presidente Sibiglia che si è esposto fino adesso nell'ambito della continuazione dell'attività soprattutto della Serie D con più difficoltà, come ha sempre ammesso anche del Campionato d'Eccellenza proprio per essere inseriti in un contesto che è di unità nell'ambito della Federazione Italiana Gioco Calcio. Pur sapendo le difficoltà che ci sono qui in Abruzzo, in tutti i nostri comitati per la prosecuzione di un'attività che è direttantistica, però noi siamo interdipendenti delle decisioni che affrontiamo, che si affronteranno all'interno della Federazione proprio perché c'è questo meccanismo di indipendenza organizzativa con le altre leghe. Ecco Presidente, questo è un passaggio importante. Quindi FIGC, Federazione Italiana di Gioco Calcio, dà le indicazioni... Consiglio federale, il Consiglio federale. Dopodiché la LND farà le sue... Dispone quelle che sono... Disporrà di... Questo per quanto riguarda la chiusura delle attività, ove, e credo che questo sia qualcosa che il Presidente Sibiglia ci dirà, oppure noi sappiamo che siamo per essere convocati in un altro Consiglio direttivo, appena ci sarà il Consiglio federale, in videoconferenza con gli altri comitati. E quindi lì il Presidente Sibiglia ci dirà intanto della chiusura delle attività e poi si costruirà. Vedi, io ho detto e lo continuo a dire, noi in questo momento, anche ascoltando le vostre trasmissioni, seguendo anche la stampa, noi in questo momento siamo ancora nella fase 1, ma non lo siamo soltanto dal punto di vista sanitario, lo siamo soprattutto dal punto di vista dell'affrontare i problemi che avrà la Lega Nazionale dei Tanti e che avranno le nostre società nel proseguire l'attività. Ed è un momento importante. Adesso, secondo quelle che saranno le disposizioni del Consiglio federale, gli interventi con le altre leghe, nei collegamenti che dobbiamo avere con gli altri compionati, nascerà una fase 2, 2 che sarà quella che affronterà e sarà lunga, sarà difficile, perché noi dovremo costruire un altro tipo di Lega Nazionale dei Tanti, affrontando questi problemi, perché dovremmo decidere chi dovrà salire e non possiamo essere staccati e non collegati alla Serie D, così come la Serie D non può essere staccata e non collegata alla Serie C. E arriviamo, Presidente, intanto volevo chiederti una cosa. C'è già qualche dato, il Consiglio federale è convocato per? Dovrebbe essere nei primi di maggio. Subito dopo il Presidente Sibiglia vi convocherà anche a voi. Ci convocherà anche a noi per videoconferenza, ma anche già da lì si desumerà che molto probabilmente avremo la chiusura delle attività. C'è questo dubbio, certo. Anche perché questo maledetto virus non è che si sta fermando, ci sono ancora tanti morti ogni giorno. Sì, sì, non si ferma, ma soprattutto sono le indicazioni che ci danno gli scienziati, il Comitato Tecnico Scientifico, nell'ambito di quelle che sono anche le nostre attività quotidiane. Anche ieri ci sono segnali di riapertura, soprattutto nel mondo del lavoro, delle aziende, ma con moltissime limitazioni anche quella che è la nostra vita personale, la nostra quotidianità. Ce ne stiamo accorgendo anche noi oggi e non solo oggi. In ogni caso, Presidente, possiamo dire che i verdetti, se ci saranno verdetti a tavolino, che adesso, come dicevi giustamente tu, è prematuro indicare tutto. Saranno nazionali? Ma sicuramente, sicuramente non possono essere diversamente. Insomma, sono decisioni che prenderà insieme al Consiglio federale, quindi insieme anche alle altre leghe, prenderà la Lega Nazionale dei Lettanti nell'ambito di quella che è la sua decisione autonoma per quelli che sono i campionati regionali. Avremo delle indicazioni sicuramente importanti, anche perché, e questa è stata anche la difesa che il Presidente Gravina, il Presidente Sibiglia, che poi è il Vice Presidente Vicario della Federazione Italiana Gioco Calcio, hanno preso. Perché comunque verdetti non del campo metteranno tutti quanti nelle condizioni di ricorrere a quelle che saranno anche le individuazioni da parte della Lega Nazionale dei Lettanti o della Federazione, dei verdetti, cosiddetti di merito. Perché qua si tratta... E quindi, quelle saranno le decisioni più importanti. E' che questo parlo io di... Parlo di una lunga, una lunga, una lunga, una lunga, un lungo periodo. Sì, inizierà questa fase 2 che sta veramente... Una fase 2. Anche problematica, con tanti problemi che avrete sul tavolo. Perché dobbiamo essere lucidi, dobbiamo comprendere tutti gli equilibri che ci sono in questo mondo. Io ho sentito anche tanti dirigenti... Questo avviene anche, ed è un dispiacere, anche a livello di Serie A, nella divisione che c'è stata, mettendo anche davanti sicuramente momenti difficili, no? Delle nostre zone, no? L'appartenenza di alcune squadre nell'ambito della tragedia più grande che c'è in Lombardia. Questo parla a livello di Serie A. Sicuramente. Però sono tutte situazioni, io dico, con un po' di pretesto. Perché guardiamo, come ho sentito, anche dichiarazioni dei nostri dirigenti. che riguardano un po' la classifica. Noi a questo punto, invece, dovremo essere tanto bravi, determinati, ma nello stesso tempo anche comprendere tutte le situazioni che ci saranno di equilibrio. Perché non possiamo negare a chi è stato in vertice, alla classifica dei tanti campionati, anche di quelli nostri più importanti. Però nello stesso tempo dobbiamo anche capire che la soluzione che noi prenderemo comunque avrà delle penalizzazioni. Ecco, questo è l'aspetto. Adesso andremo in un aspetto che molti che ci stanno guardando si attendono. È ovvio. Se ci sarà il blocco del campionato, ecco, cosa potrebbe accadere, Presidente? Oppure se c'è un congelamento? Si parla molto di questo congelamento. Ecco, anche gli aspetti della normativa, federali, le norme, cosa prevede? Come ha detto il Presidente Gravina e come ha detto il Presidente Sibila, non ci sono, non ci sono, non ci sono. Non c'è un precedente, non è stato previsto e non era anche nemmeno possibile pensare che il verdetto del campo fosse, non ci fosse. No, questo è avvenuto. Verdetti diversi, oppure penalizzazioni di società, ha retrocessioni sempre per altre considerazioni. Guardiamo gli lieciti sportivi o altre situazioni di questo genere, i momenti di violenza. Invece, in questo momento, noi affrontiamo un momento in cui le società non hanno colpa e dobbiamo affrontare questa situazione. Annulliamo tutta l'attività della stagione sportiva? E come ripartiamo? E nello stesso tempo congeliamo l'attività fino alle varie giornate che poi in tutti i comitati ci sono situazioni differenti, no? Parliamo delle eccellenze, in Lombardia mancano ancora otto giornate. Tutti quanti avevano la possibilità di ribaltare le classi. Sì, perché noi abbiamo un distacco enorme, 10, 12, 13 punti, però in tante regioni c'è un punto di differenza a pari punto. È ovvio che... Sono situazioni... Anche perché prevedono poi un altro tipo di estate calda che comunque, al di là del virus, comunque non ci farebbe ripartire se ci fossero verdetti comunque non in equilibrio con quello che deve essere lo sguardo al futuro e alla prosecuzione dell'attività. Quindi diciamo che questi due aspetti ne parlerete nella fase 2. Se bloccare i campionati e guardare la classifica, annullare oppure guardare la classifica? Con un giudizio di merito come sta facendo la stessa UEFA nell'ambito delle partite giocate, dei punti, però l'aspetto principale da superare e poi da imporre alle società, evitando che ci siano comunque ricorsi e altro genere, sarà quello della cristallizzazione di quelle classifiche. Questo è il momento importante. Certo. Dobbiamo e dovremo accettare quello. Chiaramente anche lì, parliamo solo di promozione, ma anche nell'ambito delle reggezioni, ci sono campionati come la Serie D che prevedono quattro reggezioni, anche per dare l'infa alla prosecuzione dell'attività importante delle società di eccellenza. Come potremmo penalizzarle? Addirittura, penso anche alle seconde classificate, ma penso anche a chi aveva iniziato il cammino della Coppa Italia, tra Valencia e noi abbiamo la Torrese che era già in corso, insomma, e aveva ormai da superare forse soltanto un turno. Quindi sono tutte situazioni che dovremo accettare, sperando che i giuristi, quelli veri, quelli seri, che ci potranno fornire nell'ambito anche delle consulenze che offriranno alla Federazione, alle varie leghe, ai presidenti delle varie leghe, per definire un quadro normativo, questo normativo che possa avere quantomeno la certezza di pochi ricorsi. Poi ci potrebbe essere, arriva il momento dei ricorsi, anche questo da tenere in considerazione. Ecco, siccome l'eccellenza presenta il primo campionato regionale e poi c'è la D, che è il primo campionato nazionale a livello di eccellenza, saranno legati anche in un'eventuale ragione normativa per andare a vedere dei meriti, per vedere cosa può accadere, quante ne retrocedono se non si rigioca naturalmente, quante promuovono, sono più legati questi due campionati. Come ho detto prima, la Lega della Serie D aveva quattro recessioni dal campionato proprio per permettere a tutte le vincenti dei gironi e sono tanti, perché noi in Abruzzo ne abbiamo una, ma ci sono sei o sette regioni che hanno da due a tre gironi di eccellenza in cui le prime venivano direttamente promosse e poi c'era il cosiddetto torneo di tutte le seconde classificate che ne premiavano altre nove su 27 e poi c'era la vincente della Coppa Italia che comunque se non già vincente del campionato poteva ambire la Serie D. Quindi sono mondi collegati dall'eccellenza, ecco perché è necessario, così come la Serie D deve aspettare anche quella che sarà la Lega Pro. Quindi entra in gioco anche la Lega Pro. Entra in gioco anche la Lega Pro perché a di là che avremo avevamo solo nove promozioni dalla Serie D che dovremmo garantire alla Serie C. Però anche lì la Serie C come stabilisce le retrocesse che già pare che non voglia far retrocedere nessuno perché poi in alcuni campionati è facile anche soprattutto chiudersi ma invece questo come ho detto prima è un mondo interdipendente ecco perché anche lo stesso Presidente Gravino ma lo stesso anche il Presidente Sibiglia ha bacchettato fortemente alcuni presidenti di Lega parlo di quello della Serie B o di Balata o anche di Ghirelli per alcune esternazioni per alcune esternazioni che hanno avuto nel modo di affrontare pur in collegamento con le società perché è chiaro che tutte le società anche le nostre società di eccellenza potrebbero io magari le posso anche sentire ho anche evitato di fare conferenze stampa prima di e soprattutto videoconferenze prima di avere questi dati insomma perché anche le nostre potrebbero rire due promozioni dall'eccellenza alla Serie D che facciamo oppure la Serie C la Serie D può dire voglio 12 posti ci torneremo e ci arriviamo però ecco vorrei rimanere un attimo Presidente proprio sulla Lega Pro perché forse è stata affrettata quella riunione di Presidenti insieme al Presidente Chirelli dire noi blocchiamo il campionato per noi è finito non si retrocede un po' non c'erano i termini per dire questo un documento che è uscito chiaramente Chirelli il Presidente Chirelli se ne è molto dispiaciuto adesso anche riavviato tramite una lettera che ha diffuso con il Presidente Sibiglia un contatto e per soprattutto perché quella decisione che poi non era una definizione come ha detto lui definitiva dell'Assemblea era stata una chiacchierata purtroppo adesso lui avrà la riunione con le società si prenderanno delle decisioni ma devono essere delle decisioni interdipendenti devono stare all'interno della Federazione perché anche la Serie C che pretende e pretenderà giustamente delle delle promozioni nella Serie B non può pretendere poi che la Lega di B in questo modo non gli dia i posti facendo magari retrocedere le società di Serie B anche perché a differenza in maniera magari completamente diversa a differenza ci sono interessi diversi insomma rispetto al mondo direttantistico anche se noi sappiamo che sia il campionato di Serie Z sia il campionato di eccellenza di promozione ha determinato e comunque ha avuto già dei costi importanti per le nostre società per le nostre presidenti per quelle aziende che affiancano le nostre società in questa alta opera meritoria che hanno un altro aspetto che possiamo affrontare che si è parlato tanto tra presidente addetti ai lavori diciamo se non si riparte c'è quella scorciatoia chiamiamola così del ripescaggio che mai come quest'anno potrebbe avere veramente una voce importante questo per questo ho detto che la fase 2 prima di affrontare la fase 3 sarà lunghissima farà lunghissima questo è un meccanismo che noi abbiamo chiaramente va determinato come ho detto prima con dei principi legati proprio a quella che può essere la chiusura dei vari campionati magari della lega di A non si riparterà la lega di B o la lega di C con la disponibilità però di posti allora quando sarà possibile affrontare questa discussione noi comunque dovremo essere interdipendenti tra le varie leghe per cercare di trovare delle soluzioni che appunto permettano anche oltre alle promozioni che saranno sempre delle promozioni legate in questo caso a una cristallizzazione di classifica che non era comunque definitiva quindi già un aspetto quello da affrontare e poi dovremo comunque affrontare la posizione di premialità in quelle situazioni in cui le società non possono essere promosse ma questo dipenderà anche dalla quantità di posti disponibili allora se io come comitato regionale affronterò questa cosa nella fase 2 nei campionati di prima categoria o di seconda avrò la possibilità nell'ambito di ampliamenti di gironi nell'ambito di bloccare ma in altri campionati che sono interdipendenti tra eccellenza e promozione anche come numero di squadre di appartenenza come si fa a prevedere questo tipo di premialità come parli tu di ripescaggi di merito se non prevedendo che ci sia qualcosa che arrivi dall'alto cioè qualche posto disponibile in più in serie D qualche posto disponibile più in serie C su queste basi noi dovremo trattare quindi si va da scivolo partendo dai professionisti per cui hai detto più volte eccellenze e D sono per forza legate quindi ci sarà in ogni caso ci saranno delle scelte delle posizioni dei regolamenti nazionali da rispettare pensi che dalla promozione in giù saranno più locale delle scelte oppure sempre a livello nazionale perché le realtà di una seconda categoria di una terza anche sono diverse da regione a regione questo sicuramente ci saremo sicuramente sulla base di certi principi che dovranno essere generali sicuramente come abbiamo avuto sempre negli anni e come e anche nel regolamento della rigezione nazionale dei rettanti una forma di autonomia nell'ambito sia della composizione delle gironi sia della composizione di organici ma questo sempre dove sarà possibile anche in promozione io prevedo che se non sarà possibile la definitiva situazione che è legata all'eccellenza sarà difficile anche lì non prevedere o comunque prevedere alcune retrocessioni che dovrebbero dare anche sfogo alle società di prima categoria che in questo momento erano in una condizione di poter salire e quindi là anche in promozione la vedo difficile se non si aprirà il rubinetto delle promozioni in serie D in serie D e anche lì la serie D se si ferma se si ferma avrà il problema di affrontare chi retrocede certo quindi in ogni caso ci sono bisogno dei posti perché anche se decidete a livello locale regionale in base regionale è ovvio che portare delle squadre in un camionato superior bisogna trovare i posti ecco perché la posizione del presidente Sibiglia e anche in generale gli dico l'80% di tutta la Lega Nazionale dei Tanti e dei Comitati è stata quella è stata quella perché il presidente Sibiglia sa che il campionato di serie D è un campionato importantissimo che coinvolge piccole realtà come le nostre qui notaresco ma anche altre grandi in realtà possiamo parlare del Chiedi nella nostra regione del Giuliano ma altre ancora più grandi parliamo di Palermo di Taranto di Foggia per andare a finire al nord città importanti come Mantua che sta disputando quindi sono situazioni che secondo il presidente andavano definite con un verdetto che solo il campo ci poteva dare nell'ambito di quella meritocrazia che che il calcio ha sempre preteso certo quindi poi torneremo anche su questo aspetto però un altro aspetto di cui non si è parlato molto presidente in questo periodo è quello legale perché un giocatore se si torna in campo pensiamo che sia quasi impossibile diventa positivo a quel punto entrano veramente in campo tante responsabilità certo questo è stato definito ed è stato anche mosso in un campo in un rilievo alla Serie A quindi alla ripartenza della Serie A quindi per professionisti che comunque la tutela della sanità dal punto di vista sanitario è importantissima ma anche lì è forse anche possibile trovare una soluzione anche dal punto di vista delle responsabilità del medico della società perché fondamentalmente questo era è stato anche un punto che doveva essere definito infatti qualche medico di società si è anche ritirato dal comitato in cui era proprio perché c'è questa responsabilità del medico da noi chiaramente la situazione era più era diversa insomma perché non è detto che poi quella quella situazione si fosse verificata durante gli allenamenti o durante la ripresa del campionato certo torniamo a quello che ci dice la scienza e a quello che ci dice qua la cosa più importante da fare è fare i tamponi siccome sappiamo o i testi sierologici siccome sappiamo che per adesso non sono non sono sicuramente il numero sufficiente per far riprendere tutte le attività con sicurezza sempre con il distanziamento sociale ed altro questo problema non lo stiamo non lo stiamo affrontando insomma anche perché come dicevi tu credo che anche dopo la riunione di ieri molto sommessamente lo possiamo dire prima delle dichiarazioni di Sibiglia o prima del Consiglio federale sarà difficile far ripartire i campionati regionali ma credo che nonostante il grande sforzo del Presidente Sibiglia credo difficile anche la ripartenza della Serie D anche per la Serie D a proposito di medici più volte ho ascoltato il medico del comitato della FIGC persona molto preparata molto culata si è sempre espresso in maniera attenzione ragazzi è difficile parlare di calcio certo ma guarda io parlare di calcio perché dobbiamo guardare tutti gli aspetti qualcuno è il nostro mondo qualcuno l'ha messo anche qualche dirigente come tu sai non sono sui social come tanti ex presidenti o ex o ex non sono sui social però qualcuno mi ha rimandato qualche messaggio qualche dichiarazione di qualche dirigente che io non penso ai morti come hanno fatto anche a Gravina ma in maniera chiaramente anche diversa perché lì li hanno fatti professionisti della comunicazione o di altri mondi ma di che cosa dobbiamo parlare è chiaro che ci sono i morti il dolore è insito è dentro ogni casa ogni casa io credo perché come ho detto prima io ho avuto amici noi abbiamo avuto dei lutti importanti come possiamo pensare alla ripartenza riguardando quelle che sono le perdite che noi abbiamo avuto presidenti importanti storici come il presidente di Loreto del centro storico di Montesilvano del calcio a 5 una figura nobile del nostro mondo da circa 40 anni però comunque bisogna affrontare la situazione quindi bisogna affrontare questo mondo perché le nostre società in questo mondo hanno bisogno di risposte dopo l'elaborazione di un dubbio di un lutto che guardate questo lo ricorderanno i nostri nipoti i nipoti dei nipoti più della seconda guerra mondiale è più forse forse l'unico riferimento che sta non in termini di morti per fortuna sarà la spagnola o forse l'asiatica insomma ecco presidente voglio farvi un'altra domanda per rimanere nel calcio poi parleremo un po' anche di cosa potrebbe accadere i campionati provinciali saranno delle scelte su base regionale provinciale non saranno immagino legati anche a livello nazionale non abbiamo ancora disposto la chiusura per esempio come ha fatto la federazione e quindi le varie leghe professioniste dei campionati giovanili che al momento solo i settori giovanili sono chiusi dei professionisti dei professionisti noi praticamente li abbiamo chiusi a febbraio perché in tutti i comitati si sono adeguati a quella che era quelle che erano state le decisioni del nostro Consiglio quindi stiamo soltanto giustamente come vuole il Presidente Sibiglia aspettando che questa decisione avvenga all'interno del Consiglio federale ma è chiaro che quelle situazioni si cristallizzeranno abbiamo la possibilità eventualmente anche di premiare chi ha fatto un campionato importante vedremo insomma quelle che sono le premialità anche da offrire alle nostre società che comunque hanno fatto buon tre quarti di stagione sì perché sarebbe la cosa peggiore di dire ragazzi abbiamo scherzato per sei mesi quello da lì si trova qualche soluzione ma anche nella ripresa futura magari per soltanto per dargli la coppa più che il titolo di campione regionale o provinciale insomma Presidente hai previsto quando se fare un incontro magari sui social in una videoconferenza con i vari presidenti di eccellenza promozione ci stiamo attrezzando purtroppo in questo momento dobbiamo farlo assolutamente con questi nuovi dispositivi sperando che sia buono il meccanismo di diffusione e chiaramente faremo queste riunioni chiamiamole così in videoconferenza separate pensiamo all'eccellenza da soli il girone A di promozione da soli il girone B in vari giorni ma quando e qua torno anche al discorso di prima al silenzio forse assordante del presidente Ortolano perché credo di aver interpretato il mio ruolo con un alto senso di responsabilità ruolo istituzionale che mi è dato dalle società di non avventurarmi come ha fatto anche qualche presidente regionale di non avventurarmi anche dietro a quelle che erano magari alcune richieste con il senso di malessere espresso con senso di malessere e di inquietudine da parte dei nostri dirigenti adesso col tempo affronteremo queste situazioni quando saremo in grado anche di dire qualcosa in più rispetto alla definizione della vecchia stagione sportiva la stagione sportiva che sta oramai scemando che è la 19-20 ecco per quanto riguarda si è parlato anche tanto in questi due mesi perché è ovvio che non si gioca ma almeno si parla gli aspetti un po' economici gli aiuti pensi che perché le società quando si riparta avranno dei problemi derivati dagli sponsor dagli aiuti economici che noi ci si regge in questo modo soprattutto dalle sponsorizzazioni guarda Tiziano io devo soltanto ribadire un concetto che ho detto prima anzi non lo ripeto ma credo che in questi momenti sono apparsi su alcuni siti web sono apparsi in tante televisioni in tante trasmissioni anche sulla stampa ex giuristi ex economisti ex presidenti ex anche ex che hanno proposto piani Marshall e piani di salvastati e qualcuno ha fatto anche l'accusa che sto alla finestra forse avendo perso anche il senso di responsabilità che si aveva prima quando si era presidente anche in queste situazioni senso di responsabilità che è grandissimo e pensare che uno sta a casa da solo e che in un contesto generale che è quello della Lega Nazionale dei Lettanti inserite in un contesto che è quello della Federazione Italiana di gioco calcio di un mondo così importante significa svalutare tutto il lavoro che uno sta facendo la Lega Nazionale dei Lettanti dal primo marzo insieme ai comitati regionali sta programmando una e chiaramente con il nostro apporto anche con il nostro apporto di nostri dipendenti che sono adesso non sono al lavoro sono in cassa integrazione ma che hanno comunque fornito questa aiuta ha preparato un piano che è quello intanto di una valutazione della Lega Nazionale dei Lettanti per quella che è la sua missione per quelle che sono i nostri numeri per quelle che sono le nostre indicazioni economiche finanziarie i costi delle nostre società per offrirlo alla Federazione Italiana di gioco calcio e soprattutto al Ministero dello Sport che ha previsto dei fondi alle federazioni serie alle leghe serie fondi per la prosecuzione di questa attività importantissima dal punto del servizio sociale che riguarda tutto il mondo dello sport e la Lega Nazionale dei Tanti in 15 giorni 20 giorni ha fatto questo ha messo in sicurezza i suoi dipendenti ha messo in sicurezza questo mondo affrontando anche quelle di cui abbiamo parlato prima nella definizione di un quadro organizzativo e così abbiamo fatto noi io personalmente sono stato sono un membro della Giunta CONI quindi anche con l'assessore allo sport della regione Liris noi lo ringraziamo perché ha avuto la sensibilità di chiamarci abbiamo definito un quadro che sicuramente di cui la regione terrà conto per l'importanza di questo mondo sportivo in cui abbiamo chiesto i contributi per la sanificazione degli invianti abbiamo chiesto i contributi per quanto riguarda ogni tesserato delle nostre società nel pagamento di quelle quote abbiamo chiesto contributi importanti anche nell'ambito del costo di gestione perduto dalle società in questo momento i congelamenti di quei costi per quanto riguarda il nostro mondo invece abbiamo presentato la lega nazionale dei dettanti quello che qualcuno ha definito piano ma ma già lo sapevamo sappiamo che che ci sono ancora dei costi che non addebiteremo più alla società alle società sappiamo che però quel tipo di cifra vale tanto e così come sappiamo che non potremo offrire se non aiuti importanti nell'ambito delle iscrizioni delle società aiuti importanti ma non la definizione annullamento delle nostre iscrizioni perché significherebbe mandare a spasso 350 dipendenti mandare far clorare con tutte quelle che sono invece le riserve che la rega nazionale dei dettanti metterà in campo e che riguarderanno anche la definizione dei costi assicurativi con la società assicuratrice tutte serie di modalità di impegno nei confronti di società su cui stiamo lavorando perché quando non si è fuori a parlare così come sto facendo io oggi con te e con questa emittente che ringrazio quando non si è fuori si ha un ruolo istituzionale di responsabilità bisogna capire bisogna sapere che il bilancio della rega nazionale dei dettanti è di quasi 35 milioni di euro escluse tutte le altre attività che il nostro bilancio nel minimo di quello che noi abbiamo solo per quanto riguarda le attività e per quanto riguarda i dipendenti è pari quasi a 500 mila euro insomma però ugualmente crediamo come lega nazionale dei dettanti di infondere in questo sistema senza aspettare lo stiamo già facendo ce l'ha già richiesto Sibiglia senza aspettare gli aiuti che sicuramente ci verranno dati dalla federazione italiana di gioco calcio che ne ha avuti anche già dall'UEFA e dal ministro dello sport e quindi anche dall'ospedale una parte anche nei settori rettantistici certo io spero di sì il ministro si è anche esposto ha parlato di 400 milioni per tutto lo sport se noi pensiamo io ho letto la dichiarazione di Barelli del nuoto parla di un buco che supera abbondantemente le centinaia di milioni quindi anche lì ci dovrà essere ecco perché la Lega Nazionale si è portata avanti con una relazione che ha individuato quali sono le peculiarità di questo mondo della Lega Nazionale Direttante che non è quello solo della serie D ma è il mondo che viviamo tutti i giorni di piccoli dirigenti che sicuramente saranno impossibilitati a ripartire che hanno bisogno invece che noi infondiamo in questo momento fiducia entusiasmo oltre che a riguardare la situazione economica Presidente un'altra al di là adesso dell'aspetto economico che ne hai parlato ampiamente un'altra problematica direi che si è acuita con il coronavirus nei dilettanti è il problema dell'impiant l'impiantistica lo spogliatoio è certo noi l'avevamo anche con diciamo con un canale privilegiato con l'assessore Liris anche per la situazione che abbiamo vissuto sull'impiantistica e là abbiamo avuto parecchi incontri prima di questo coronavirus proprio per definire per definire quelle che potevano essere aiuti ai comuni per rimettere a posto gli impianti e oggi ci troviamo nelle condizioni di chiedere ulteriori contributi per quelle che riguardano attività che prima non avevamo previste che riguardano la significazione degli ambienti ma penso anche proprio alle strutture dei nostri impianti degli spogliatoi se questa situazione non passa definitivamente sarà difficile anche immaginare una prosecuzione dell'attività in quelle che sono alcune strutture dei nostri impianti quindi dovremo anche richiedere ai comuni comunque qualche miglioria da fare all'interno degli spogliatoi per permettere se sarà ancora valido il distanziamento sociale la possibilità di non stare a contatto anche non solo nell'attività sportiva ma anche e soprattutto dentro degli spogliatoi perché questo avvenga quindi è una situazione difficile e ci vuole sicuramente un intervento forte anche da parte dei comuni a questo punto soprattutto negli spogliatoi da chi è interessa a mantenere il mondo dello sport nei suoi principi nei suoi valori a mantenere la socialità nelle nostre società nel nostro mondo a far sì che i nostri bambini continuino a giocare a calcio o a praticare altri sport in situazioni in questo momento che mi sembra anche difficile da definire perché io ho anche questa preoccupazione e pensare in questo momento che si giochi a breve tempo è impossibile umanamente impossibile però chi ama il calcio cosa diceva ci sarà una ripartenza in ogni caso bisogna ripartire dobbiamo come ho detto prima infondere fiducia anche attraverso misure di carattere economico ma soprattutto di diffusione di messaggi positivi con le nostre società certamente dovremo come ho detto già in un altro in un altro messaggio aspettare che quantomeno questo sole non sia ancora non sia ancora offuscato da tante da tante questo sole che deve rinascere da tante situazioni che oggi ci obbligano a guardare in maniera ma io parlo anche e soprattutto non solo mia ma anche dei dirigenti delle famiglie e degli stessi tesserati quindi ad affrontare in maniera proprio così con coraggio queste situazioni essendo certi che la situazione sanitaria è migliorata e che questo rischio è un rischio è un rischio minimo che noi potremo correre nell'ambito della pratica della nostra della nostra disciplina certo ma poi se la classe politica il mondo politico il mondo scientifico parla presidente a riapertura delle scuole a settembre questo ci fa ben sperare anche a noi se ripartono le scuole però ripartono le scuole i banchi distanziati ci servono più paure questo mi fa un po' paura io invece mi auguro che come hanno fatto anche in alcuni paesi queste appunto che il sole sia rinato che il minimo il rischio minimo sia all'interno di una scuola sia all'interno in quel momento di socialità oltre che di apprendimento e di istruzione che devono avere i nostri ragazzi lo sia anche all'interno di uno spogliatoio per rivivere appunto quel momento gioioso che condividono come ho detto prima quasi 700.000 giovani in Italia insomma siamo a un praticante su quattro del gioco del calcio nell'ambito della popolazione giovanile e infantile in conclusione Presidente guardando le telecamere di Tommaso D'Alonzo che ringrazio per il grande lavoro anche oggi che cosa ti senti di dire alle tue società alle mie società dico che appunto stiamo affrontando questa fase 1 ci stiamo proiettando per la fase 2 per quanto riguarda quelle che saranno i cosiddetti verdetti sempre nell'insieme di un mondo che è il mondo della federazione italiana di gioco calcio insieme alle altre leghe alle altre componenti quella degli allenatori e dei calciatori perché quella sarà la fase che ci lancerà verso la nuova programmazione della stagione sportiva 2020-2021 quindi dobbiamo farlo con coraggio io chiederò coraggio ai nostri dirigenti e alle società immettendo anche attraverso come abbiamo detto prima sia dei contributi economici importanti sia con l'interlocuzione con tutto quanto il mondo della sanità per la tutela degli atleti con il mondo non solo delle amministrazioni comunali con la regione per dare appunto un quadro che sia normativo sia di sanitario importante e che ci faccia guardare bene al futuro perché tutti vogliamo che i nostri prati verdi adesso prati in erba artificiale siano riempiti non solo dai nostri calciatori direttanti ma soprattutto dai nostri giovani dai nostri bambini che come avverto io guardando il mio nipote non hanno soltanto questa voglia di giocare fuori dentro una piazza figuriamoci su un campo verde e di riprendere quel momento gioioso e ludico che il calcio sa dare grazie grazie presidente ortolano noi guardiamo il futuro così con questo sole che oggi si sta illuminando qui in una piazza di Pescara vi ringrazio a voi e come sempre saremo vigili presenti per informarvi sullo cosa accade nel mondo sportivo dilettantistico grazie